Signori, benvenuti in una nuova puntata della Progetto Zone 2 in Kappa Mode Allora signori, nella scorsa puntata abbiamo fatto l'Infinity, un Infinity Hangout Eccolo qua Che ce lo ritroviamo qua, bellino bellino Ora ragazzi, prima di iniziare con la puntata che ovviamente volevo fare oggi Vi devo fare un bellissimo annuncio Praticamente, tipo 3-4 giorni fa, una cosa del genere Il mondo ha cominciato a laggare C'è tipo, laggava bestia Io provavo ad aprire questo, mezz'ora per aprirlo Per qualsiasi cosa dovessi fare, tipo prendo uno stacri-call Ci mette 3 giorni e un quarto per prenderlo Lo dovevo rimettere dentro la stessa identica cosa Stavo impazzendo perché non capivo qual era il problema Allora sono andato nella The Last Millennium Ho detto, boh, secondo me sono troppi gli immaginari time block che ho messo qui Cioè che ho messo qui dentro Cioè tipo, ce n'era uno No, aspetta, quanti ce n'erano? Ce n'erano 3 qui E 3 qui E 3 qui, se non sbaglio Una cosa del genere Più 4 dove c'erano il reattore E altri 4, non mi ricordo dove li ho piazzati Cioè tipo, boh, ne avrò messo minimo minimo una trentina Di immaginari time block Allora li ho tolti tutti e continuavo a laggare Ma laggava bestia Ma bestia, bestia, bestia Allora tipo ho pensato Ma non è che per caso si tratta della dimensione di Bedrockium Allora ho detto, vabbè, proviamo a eliminare le dimensioni fatte con la RF Tools Eliminate quelle Niente Continuava a laggare a bestia Niente riusciva a risolvere il tutto Perché non riusciva a risolvere nessuno di questi problemi Che anche tipo ero disperato Veramente ho detto No, vedrai che ci devo buttare la Progetto Zone 2 Come è successo con la Sky Factory Per problemi che non posso risolvere Che non so per quale motivo E allora tipo in ultima speranza Ho detto, boh, mando un messaggio a Marcus Crone Siccome lui sicuramente gli è successa una cosa simile Perché si trattava di TPS lagg E gli ho detto praticamente il mio problema Sul fatto che avessi della lagg Avessi problemi a caricare qualsiasi cosa Aprissi, ci mettesse mezz'ora ad aprirla E praticamente mi ha detto di installare la Opis La Opis Mod Che è praticamente una mod che ci permette di fare questa cosa qui Forge TPS No Forge TPS E ci dice praticamente dove il nostro mondo sta laggando Praticamente Minecraft funziona a tick Come sappiamo benissimo In un secondo ci sono 20 tick Quando questo valore Quando questo valore qui è inferiore a 20 Vuol dire che stiamo laggando In una delle dimensioni in cui ovviamente Andiamo ad avere meno di 20 in questo valore qui Come vedete adesso è tutto nella norma Tutte le dimensioni che abbiamo visitato Ho eliminato tutte le dimensioni Comprese anche quelle del Della Galacticraft Ho detto tanto nei pianeti non ci vado più Quindi che cosa mi serve tenerle Ho detto Le eliminiamo del tutto E qual'era la dimensione? Che stava dando problemi La Mining Dimension Io ragazzi Tutto avrei pensato Tranne che fosse quella dimensione Non so perché Non c'era niente Non c'era assolutamente niente Non c'era nessun impianto Cioè a parte quello delle mucche Ma quello delle mucche Cosa vuoi che lacchi? Non c'era niente Non C'erano sì Dei Tesseract Dei Dei Rancher Ma A parte quello Che cosa Non c'era niente Non aveva motivo di laggare I solar panel Può essere che fosse I solar panel Ma non lo so Non ho la più palida idea Del motivo per cui Laggasse quella dimensione Era tipo Quel valore lì A 1.94 Vi faccio capire Che cosa poteva essere Quell'agg 1.94 Io veramente Sono rimasto scioccato Ho detto Ma come la Mining Dimension? Cioè avrei pensato di tutto La La The Last Millennium Cazzo ne so Questa dimensione Questa Questa Cioè che poi tra l'altro Adesso mi sta andando A un botto di FPS Cioè Mi sta andando veramente A tanti FPS Non mi sta Non mi sta frizzando Non mi sta dando Nessun tipo di Ah poi ho aggiornato il modpack Ho aggiornato il modpack E guardate qua I copper block Hanno un valore Di M Si Oh si 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 Bellissimo 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 Solo che ragazzotti Che cosa volevo fare io oggi? Allora vi faccio vedere Che ovviamente Per fare Un Infinity Eingot Noi abbiamo fatto Questo crafting Qui l'altra volta E ok E' un casino Perché ci vogliono Molti Neutronium Eingot Molti Ehm Vabbè Crystal Matrix Non è un problema Perché anche craftarlo E' una minchiata Ma più che altro Il problema E' l'Infinity Catalyzed Infinity Catalyzed Che per molte cose Non è un problema Perché sono tutte Farmabili con gli MC Tipo il Dark Matter Block Il Landest Peerl Il Temperio Essence Block Le rune Vabbè Non si possono fare La Refined Obsidian La Singolarità E tutte queste cose qua Hanno effettivamente Un valore di MC Quindi non è un problema Farmarle Ci serve Automatizzare Almeno il processo Delle singolarità Ora io direi di andare Nella The Last Millennium Perché ho costruito Una nuova zona Qua Molto 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 Lontano Che si chiama Automatismi Innanzitutto abbiamo Automatizzato La produzione Di Living Rock E Living Wood Come potete vedere E' un sistema Abbastanza stupido Ragazzi E' L'ho già fatto Mille volte Sia nella Sia Factory Che in altri Modpack Poi qui che cosa abbiamo Qui abbiamo Ragazzi Poi tra l'altro Ho provato A fare in modo Di Poter Di mettere più Harvest Per vedere se Accelerava la cosa Ma Non cambia niente Ragazzi Semplicemente Dobbiamo Aspettare Tanto Tanto Tempo E qua sotto Abbiamo L'automatismo Della produzione Ovviamente Della Temperio Essence Viene Viene mandata Allora Viene prodotta Qua La Zivicio Essence La Zivicio Viene mandata In questa Ender Chest Che poi finisce qui Che poi finisce in questo crafter Che poi diventa Temperio Essence Che poi viene mandata Qui dentro Dove viene appunto Trasformata In bellissimi Demon Steel Of the first Magnitude Ora ragazzi Se noi ci serve Per esempio Un Elevent Noi facciamo così E me lo crafta Ci sono tutti I crafting Di tutti Demon Steel Basta che vi faccio così E vedete che ci sono Tutti i crafting Qui Quindi se ci serve Qualsiasi Lingotto di questi Possiamo Autocraftarlo Ovviamente Avendone Le unità Ora ragazzi Io mi sposterei Un po' più avanti Ovviamente Faccio la piattaforma Off camera E ci vediamo Fra un po' Ok ragazzotti Ah poi Tra l'altro Ragazzi Ovviamente La sfiga Non bastava Con il fatto Che stesse laggando Che stesse per perdere Il mondo Ma ho perso Tutto l'inventario Quindi Ho dovuto Righivarmi Alcune cose Che Ah poi tra l'altro Non c'è più Quella mod Che Porca la puttana Cioè io non lo so Boh vabbè Facciamo così E facciamo così Allora Cosa Cosa mi serve Allora Quindi Andiamo a prendere I drawer Però questi drawer Hanno 2048 unità A me io Di 2048 Singolarità Non me ne faccio niente Questi dovrebbero 8 stack Per drawer 8 stack Per drawer Ah me ne dai 4 Quindi va più che bene Allora Quanti stack No Allora devo sapere Prima di tutto Quanti stack Mi occupi Cioè mi tieni Quindi prendiamoci Un bel po' Di flint Un bel po' Un bel po' Così 512 512 Eh ma anche 512 Sono molti Vabbè ma contando Che comunque Di molte Singolarità Noi le abbiamo già Quindi non Dovrei comunque Aver Però sì Possiamo provare A farli Allora Prendiamoci questi drawer E ne facciamo Degli altri Ovviamente Ah vabbè Sì possiamo fare Me ne hai fatto Parecchie Guarda Allora Facciamoci Le chest Così Allora Facciamone uno stack Tanto non dovrebbe Essere un problema Tieni Eh no Tienile lì Perfetto E fammi uno stack Di questi drawer Qua Allora Le singolarità Quante sono Singularity Sono Allora 12 13 Più 10 Fa 23 Più Altre 10 33 Sono 33 Singolarità Fai vedere Sono 9 9 18 9 27 28 29 30 31 2 33 Perfetto Quindi qua ne abbiamo 4 Quanti drawer dobbiamo utilizzare Quindi 8 9 Allora 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 Quindi qui abbiamo i nostri drawer Ora cosa facciamo Semplicemente li dobbiamo settare Ok ragazzotti Quindi qui praticamente ci andrà il nostro Andranno le nostre singolarità E ovviamente si bloccheranno una volta raggiunte le quantità Cioè 512 Quindi perché ovviamente Vi faccio ben capire Guardate quanta Quante 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 ne ho Tipo io posso fare così Andare E riempire Questo stack Questo qua di gold E fare così per tutto Ovviamente ragazzi Ok ragazzi Quindi come vedete Il nostro praticamente Impianto dell'uplierd Tra virgolette Vede 512 singolarità Di ogni tipo di singolarità Ovviamente tranne per quelle Che Abbiamo Di cui abbiamo Poche unità Tipo Che ne so Quella di copper Perché ovviamente Le faceva lentamente Per il motivo Che dovevo usare due Neutroni Un compresso Per poter Fare due Una di copper Singularity Invece adesso non dovremmo più farlo Eccetera eccetera Poi ovviamente le ultime Che abbiamo fatto per ultime Cioè Non Non ha Non ha Non ha Non ha senso contarle Perché comunque Le abbiamo fatte per ultime Abbiamo poche quantità Per quel motivo lì Ora Cosa facciamo Ritorniamo Ovviamente A casotta Tra l'altro qui Io metterei un bel Waypoint Tipo Auto Automatismi E mettiamo Commit Ah però non abbiamo Ovviamente Enderpearl Il mio 341k Penso che possano Andar bene Allora facciamo così No Auto fuel Add fuel Ma così Posso darti tipo Uno stack alla volta Vero? Oppela Andiamo fin quando Ce n'è Ok Quindi Qua abbiamo il nostro Bellissimo Waypoint Cioè abbiamo L'automatism Hub Centrale Commit Perfetto Così almeno siamo A postolo Andiamo dove c'erano I nostri bellissimi Neutronium Compressor Solo che adesso Dovrei staccare tutto Compresi anche ovviamente Gli MK2 Allora abbiamo Recuperato ovviamente I nostri bellissimi Neutron compressor Ne dovrò fare degli altri Perché me ne mancano Undici Sono 33 Me ne mancano undici Che palle Che palle No dove minchia Stonne Cosa sta succedendo Della mia vita Allora Però Io non voglio Mandargli il Bedrockium Come facevo prima Voglio mandargli Il Netherstar Perché Comunque sia ragazzi Non Cioè una volta che Arriviamo a 512 Di ogni singolarità Non abbiamo più bisogno Di Mandargli altri Molte Ne resta Capito Quindi non Non ha senso Allora Quindi come facciamo Semplicemente Iniziamo a posizionare I neutroni Un compresso Li facciamo così 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 No Non volevo fare questo Volevo fare così E così Poi andiamo di F7 Perché F7iamo la situazione Allora Dovrebbe essere Tutto a porno Ok Perfetto Item Entra lo stockator Oppela E sopra ovviamente Gli energy condenser Ma se li mettiamo Tipo Qua a lato Magari anche Più bellino Ok Stava per esplodermi Il microfono Allora Andiamo a prendere Dei blocchi Ma Sì Anche di concrete Chi se ne frega Tanto è solo per Poggiare il I cosi Gli mk2 Sto per morire Ok No in realtà Non sarei morto Però Sì Oh Santa pazienza Allora Lampade Ok Ne abbiamo una Qua La posizioniamo qui sopra Per il momento Quindi Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Corre un po' troppo Questa armatura Se devo essere sincero Allora Facciamo così Facciamo così Qua Ci vanno i L'item Traslocator Tra l'altro hanno dato un valore Di MC Anche agli L'item Traslocator Sono la persona più felice Nel mondo Ok Mettiamoci Ma per caso anche i chipset No Vabbè Ti pareva Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici E dodici Perfetto Settiamo il tutto ragazzi Settiamo il tutto ragazzi Settiamo il tutto ragazzi Grazie.